Dovete decidere da soli quale strada intraprendere. Quale sarà la vostra storia? Un antico nemico è tornato. Tu farai parte degli eventi che verranno e dovrai compiere scelte difficili, come facciamo noi. Io sono Nozdormi. Vieni, ho molto da mostrarti. La mia storia è già scritta. Ma la tua e quella di tutti i Draktir è soltanto all'inizio. iscriviti al nostro canale. cookbook.com